Dall'Osservatore Romano 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 sessualità precoce, della sessualità promiscua e della pornografia digitale, che insieme al turismo sessuale rappresentano delle viaghe sociali alle quali anche la Chiesa è chiamata a dare una risposta sia in chiame preventiva, sia in chiame formativa, morale e spirituale, ma anche sessualità nel senso di bellezza, della visione del corpo e della castità. E direi, aggiungo, che da parte dei giovani presenti sia nelle riunioni sinodali, presinodali, sia nel sinodo vero e proprio, è stata esposta una richiesta specifica ai responsabili ecclesiali che nel mio piccolo voglio richiamare a tutti gli amici sacerdoti, religiosi o religiosi o laici che collaborano nelle diocesi, ecco, i giovani hanno chiesto ai responsabili ecclesiali di affrontare, in questo vasto tema della sessualità, il tema della omosessualità e del gender, ma in una chiave, il gender sappiamo è quell'ideologia dell'indistinzione tra maschio e femmina e di conseguenza un'ideologia che ha portato a tante distorsioni, ad esempio al travestimento dei ragazzini nelle scuole pubbliche e talvolta anche private, al blocco dello sviluppo ormonale, sulla base della libera scelta dell'identità sessuale, ecco, i giovani chiedono, hanno chiesto una parola su questi due temi, illustrando la morale cristiana e la visione naturale e soprattutto cercando di superare quello che è stato definire un eccessivo moralismo da parte degli stessi responsabili ecclesiali presenti al sinodo, che talvolta ha ostacolato la comunicazione della Chiesa su questi temi con i giovani. Adesso passa la parola a Silvia Guidi che ci darà una prima valutazione dei temi affrontati e di quello che l'ha più colpita del documento finale del sinodo. Io inizio a parlare del proemio dove si individua nell'episodio di Emmaus Evangelico un po' il filo rosso che lega un po' tutti questi paragrafi lunghi, ricchi, pieni di spunti, pieni di cose. Mi piace molto perché evidenzia in questo episodio due aspetti della vita cristiana. Il cammino, il camminare, perché la fede si scopre camminando, l'io stesso si scopre in azione perché non siamo solo pensiero, siamo esseri che camminano nella storia. E poi la necessità della presenza di Gesù che in un qualche modo rivela se stessa nel momento più inaspettato. Sembra un viandante, sembra una persona come tante altre e invece è il figlio di Dio che sta portando la buona novella, che sta mostrandosi risorto a due persone che sono tristi, sfiduciate, che stanno lasciando Gerusalemme perché deluse da un sogno di bellezza e di resurrezione, di gioia che poi è stato miseramente smentito dalla realtà, anche se poi non è così. E un altro punto molto interessante è proprio la fine del documento, dove si dice guardiamoli questi ragazzi, guardiamoli giovani, non sono solamente il nostro futuro, sono già il nostro presente e soprattutto lasciamoci provocare dal loro desiderio di santità. Facciamo sì che guardarli nel loro slancio bello, fresco, nel loro desiderio di vita, che ancora è forte, lasciamo che ci provochino a ricordarci il nostro primo amore, dice proprio così là il documento. E quindi facciamoci convertire noi persone mature, persone più grandi, dai ragazzi che accompagniamo, che aiutiamo a scoprire loro stessi. Un'altra cosa di cui a più riprese si parla è non abbassare l'asticella, non trattare i ragazzi con una condiscendenza che poi in realtà è un modo per sottovalutare la grandezza del loro cuore. E il cuore inteso in senso biblico, cioè il desiderio di bellezza, di felicità, di compimento della persona, non trattarli da minorati solo perché sono giovani e non in questo modo bloccare il loro desiderio di santità, di impegno totale e anche impegnativo, appunto, serio nelle cose della vita. Perché spesso c'è una falsa gentilezza, una condiscendenza travestita da discrezione o comunque da prudenza che in realtà non aiuta i ragazzi a fare chiarezza sui desideri del loro cuore. Per questo il documento invita anche a trovare dei luoghi fisici, dei tempi precisi, da dedicare al discernimento. Possibilmente separati da dove si svolge la loro vita quotidiana, cioè i classici ritiri, cioè staccarsi dalla vita normale, dalla routine e dedicare un tempo all'ascolto di se stessi, del proprio cuore, e allenarsi a quel silenzio che è l'unico luogo in cui il Signore può davvero parlare. Benissimo. Della prima parte del documento finale, che rivediamo è frutto del discernimento realizzato dopo la fase dell'ascolto che è stata appunto sintetizzata nell'instrumentum laboris, nel documento preliminare, che rappresenta il quadro di riferimento unitario frutto dell'ascolto che abbiamo detto. Dicevo, sulla parte prima del documento finale, direi che gli aspetti più rilevanti sono quelli che rispondono poi anche al magistero ricorrente di Papa Francesco, vale a dire invitare i giovani a non omologarsi e quindi a evitare l'uniformità, la cultura dello scarto, come spesso ci ha richiamato Papa Francesco su quelle realtà di emarginazione, di auto-esclusione, di auto-referenzialità. Ci sono poi tre aspetti che in particolare su questo filone la prima parte del documento finale richiama che sono quelli del rovesciamento, del rapporto fra generazioni, delle carenze della scuola, del sistema formativo che informa senza formare e del fenomeno dei giovani che né lavorano né studiano. Secondo l'acronimo anglosassore, NET, cioè N-E-T, Not In Employment, Education or Training. Che cosa intendono i padri sinodali nel recepire questi aspetti che sono frutto dell'ascolto dei giovani che provengono da contesti mondiali estremamente diversi e quindi già leggere il documento in questa chiave rappresenta un arricchimento per noi soprattutto italiani, europei, occidentali che spesso leggiamo ai documenti della Chiesa con un'ottica ristretta al nostro ambito geopolitico, culturale, sociale. Dicevo, il rovesciamento del rapporto fra generazioni in maniera molto sintetica significa che fino a poche generazioni fa il mondo degli adulti rappresentava un punto di riferimento per i giovani. Dal 68 in poi, se vogliamo considerare così in maniera un po' semplicistica un anno di riferimento, il fenomeno è assolutamente invertito, cioè il mondo degli adulti prende come punto riferimento quello dei giovani nel senso di deresponsabilizzarsi, di mancare di dare una guida, un orientamento ai giovani ma cercare di vivere in un presente permanente e quindi in un giovanilismo che ha portato poi a una serie di situazioni di abbandono, di isolamento dei giovani e aggravato, come hanno scritto i padri sinodali, da quella informazione senza formazione sulla quale purtroppo molto del sistema scolastico, educativo, dell'istruzione superiore si è irresponsabilmente adagiato. Ecco, poi nella seconda parte, proprio perché i giovani sono visti come dei sismografi, dice il papa di ogni epoca, perché praticamente prima spesso di altri riflettono delle tendenze di fondo della nostra società e anche della Chiesa, dicevo, e fra l'altro i padri sinodali sottolineano anche che purtroppo proprio assorbendo queste tendenze come sismografi, come strumenti appunto per quanto riguarda i terremoti stanno lasciando la Chiesa in gran numero, questo non lo si nasconde e non a caso appunto un sinodo dedicato tematicamente alla pastorale dei giovani, alla comunicazione e al rapporto con il mondo giovanile. Dicevo, nella seconda parte del documento finale, poi facciamo una prima pausa musicale, si parla di vocazione e discernimento vocazionale, perché senza recuperare un orizzonte vocazionale i giovani considerano la loro vita praticamente inutile, oppure come una caramella da succhiare, da consumare senza una prospettiva e questo è frutto anche di quel rovesciamento delle generazioni che abbiamo detto prima. Questo lo diciamo, discernimento e vocazione, ci soffermeremo subito dopo la pausa, perché non vogliamo certo soffermarci sulle critiche, spesso senza aver letto il documento o le discussioni del sinodo, ma una ricorrente da parte di limitati ma rumorosi ambienti è stata quella di aver escluso le tematiche morali e religiose nelle discussioni del sinodo e nel documento finale. Non è assolutamente vero, anche perché la seconda parte parte proprio da una riflessione, da un'indicazione, da un insegnamento su due temi fondamentali che sono appunto quelli del discernimento e della vocazione, che se non rettamente intesi possono portare anche a una pastorale inefficace. Adesso facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo con Silvia Guidi per parlare del documento finale del sinodo dei Vescovi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ritorniamo in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa. Sono Giuseppe Brienza e auguro una buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Stiamo parlando del sinodo dei Vescovi sui giovani e stiamo affrontando questo mistero, questa rivelazione privata che è il documento finale. Abbiamo visto tanti titoli, tanti rumors, cioè chiacchiere, chiacchiericcio su temi preoriginosi, ma poi quando è stato elaborato un documento molto interessante e poi dopo, tranne Radio Madre e altre testate giornalistiche, radiofoniche, poco se ne è parlato. Ecco, la seconda parte del documento finale è tutto incentrato sui temi della vocazione e del discernimento vocazionale. Innanzitutto, che cosa ci ricordano i padri sinodali? Il discernimento va inteso in senso molto ampio da parte della Chiesa e della sua pastorale e dei giovani alla ricerca di senso, di senso della loro vita e anche di vocazione personale. Quindi, discernimento non solo per le decisioni importanti della propria vita, ma discernimento anche in un'ottica di ascolto della volontà di Dio, quindi riconoscere la volontà di Dio sulla propria vita, perché la vita di ciascuno di noi non è proprietà personale, ma c'è stata donata. E quindi, oltre a questo secondo significato di riconoscere la volontà di Dio, i padri sinodali poi svolgono delle riflessioni, offrono degli insegnamenti anche sulle altre quattro tipologie di discernimento che debbono essere oggetto della riflessione, della orazione, del dialogo dei giovani con la Chiesa o dei giovani fra di loro. Un discernimento dei segni dei tempi, che è sempre necessario anche da parte dei giovani, quindi degli aspetti della società che ci chiamano in causa come cristiani. Poi, la necessaria forma di discernimento morale, quello di distinguere il bene dal male. Spesso la società che abbiamo di fronte, parlo soprattutto in questo caso della società occidentale post-cristiana, mischia le carte tra il bene e il male quando va bene, perché spesso nega proprio il concetto di bene e male. No, attenzione, ci avverte la Chiesa, nella scelta quotidiana, anche addirittura della musica da ascoltare, piuttosto che della professione da scegliere, occorre aprirsi a un discernimento morale su quella musica, su quella professione, su quella fidanzata, eccetera, 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 che rispondono al bene e al bene per noi e per la nostra chiamata. Conseguente a questa quarta forma di discernimento, c'è la quinta forma di cui si parla nel documento finale, che è il discernimento spirituale. Ecco, qui il discorso rimanda alla tradizione cattolica, al discernimento della tentazione, perché bisogna anche chiamare il comportamento che può portare al male morale, spirituale, tentazione. Quindi riconoscere la tentazione della nostra vita individuale è una forma di discernimento da esercitare ogni giorno. E poi abbiamo la sesta forma di discernimento, che è il discernimento vocazionale, che le include poi tutte. E anche qui l'accusa di non affrontare le tematiche morali, religiosi, spirituali da parte del Sinodo è del tutto infondata, perché il Sinodo ripete e approfondisce quel significato di vocazione che già abbiamo ricevuto dal Concilio Vaticano II. Quindi un significato di vocazione ampio che non riguarda solamente una chiamata al sacerdozio o la vita religiosa in senso stretto, ma che riguarda altri status di vita che possono andare sia dal matrimonio, sia alla professione, sia all'impegno sociale, politico, formativo e chi più ne ha più ne metta. Perché la chiamata universale alla santità ci chiama in causa tutti noi. Ecco, da questo punto di vista è interessante fare un solo approfondimento, perché ci sono molti interventi, tutti pubblicati dall'Osservatore Romano, appunto il giornale ufficioso della Santa Sede, su cui scrive la nostra ospite Silvia Guidi, un approfondimento proprio sul tema della vocazione da parte di una giovane novizia che ha partecipato sia alle riunioni per i sinodali e si è intervenuta il 4 ottobre all'inizio proprio della congregazione generale del Sinodo dei Pescovi, che si chiama Briana Santiago e provene dagli Stati Uniti, precisamente dal Texas. Ecco Silvia, che cosa, in sintesi ovviamente, Briana Regina Santiago ci ha detto alla Chiesa, ha detto al Sinodo sul senso della vocazione? Sì, gli interventi che più sono rimasti anche nella memoria di questo sinodo sono quelli forse più semplici e più legati all'esperienza personale. Tutti sono rimasti commossi dall'intervento del ragazzo iracheno, perché è stata un'occasione di vedere le ferite della Chiesa, che è sofferente davvero, il martirio vissuto con consapevolezza e con fede, quello che può produrre, e anche nella sua semplicità è stato molto citato l'intervento di Briana Santiago, perché è una ragazza di 27 anni, che semplicemente ha ringraziato per l'opportunità di aver conosciuto tanti ragazzi da tutto il mondo e di aver parlato con loro a un livello di serietà e di profondità che non c'è nella vita di tutti i giorni. E poi con molta sincerità ha detto che voleva condividere con tutti il discernimento che sta facendo della sua vita, della sua vocazione alla vita consacrata. Lei dice vengo da una famiglia cattolica praticante dove la vita quotidiana, dal lavare i piatti al cucinare a prepararsi per la scuola, era una festa continua, perché l'amicizia con Dio rende una festa tutto quello che sembra banale, scontato, grigio. E poi ringrazia il suo parroco di San Antonio e i suoi catechisti perché sicuramente le hanno dato un esempio da seguire, ma ancora di più hanno parlato della loro relazione personale con Cristo. Adesso leggo un breve brano dell'intervento, che ha cambiato la mia immagine di Dio da giudice a padre. All'università, poi continua Briana, ho incontrato una consacrata che ha preso sul serio tutto quello che vivevo e mi ha accompagnato, aiutandomi a pregare e a sviluppare la mia vita interiore. Ecco, questo forse serve davvero, uno sguardo da parte degli adulti che prenda sul serio le domande radicali, impegnative e spesso anche scomode dei giovani, le prenda sul serio e non abbia paura, non si sottraga a questo dovere educativo che è un'emergenza in corso, come diceva Benedetto XVI, come ribadisce sempre Papa Francesco. L'educazione ha un bisogno primario, come mangiare, come la medicina, come le terapie nel caso di una malattia. È un bisogno che troppo spesso viene sottovalutato. E continua Briana, dice, i ragazzi hanno bisogno di essere prima ascoltati e poi guidati, a entrare più profondamente in se stessi. Poi dice una cosa anche molto interessante, dice però, è una responsabilità che noi ragazzi dobbiamo prendere molto sul serio e c'è bisogno, dice lei, di essere trasparenti e leali nel guardare le proprie fragilità, perché solo così facendo si può impostare davvero un percorso di miglioramento personale, sempre sostenuti dallo spirito e dalla grande madre chiesa che sostiene tutti i nostri tentativi di crescita. Tu hai citato da questo intervento di una giovane che ha partecipato al Sinodo, Briana Santiago, la parola accompagnamento che è risuonata molto spesso sia nella discussione sia nel documento finale. Addirittura prima del Sinodo c'è chi con mentalità, a mio avviso, un po' burocratica, ha chiesto la costituzione di un nuovo pontificio consiglio per i giovani, che non è stata poi raccolta dai padri sinodali, ma è stato raccolto e invece è stato rilanciato, per questo parlavo di fase applicativa, adesso, l'ora in poi, è stato invece rilanciato una novità, la nostra trasmissione, che cosa c'è di nuovo nel documento finale, nel Sinodo dei Giovani. Il riconoscimento, cioè istituzionale, di questo servizio, carisma, missione, cioè quella dell'accompagnamento. Voi forse chiederete, ma che cos'è questo accompagnamento? Ecco, è il nome che è stato utilizzato, a mio avviso giustamente, per quella tradizione benemerita, che purtroppo è un po' abbandonata dopo il Concilio Vaticano II, della direzione spirituale. Ecco, non si parla più di direzione spirituale, ma di accompagnamento, per un semplice e fondato motivo, per chi spesso, spesso o meno spesso, ha questo atteggiamento di direzione, ha creato dei fenomeni di dipendenza, di mancanza di esercizio di libertà, di mancanza di esercizio di responsabilità, da parte di coloro che hanno seguito una direzione spirituale. Ecco, invece, nel documento finale troviamo questa proposta, questa iniziativa, di un riconoscimento istituzionale, soprattutto per laici, appunto, uomini e donne, per l'accompagnamento dei giovani. E in questo senso, proprio ritornando anche alla richiesta espressa di avere luci su questo, purtroppo, segno dei tempi negativo, dell'ideologia gender, dell'indistinzione del maschile e femminile, che è una perdita netta di visione antropologica, di visione spirituale e morale del cristianesimo, questa proposta, speriamo, sarà applicata da parte della Santa Sede, delle diocesi, di riconoscere, prima formandoli, delle persone, dei laici, che possano accompagnare i giovani, ecco, una delle linee direttive, proprio tenendo conto di questa differenza costitutiva, diremo di questo mistero, bellissimo, della differenza dell'identità maschile e femminile, che sono, come dice il Sinodo, il maschile e il femminile costitutivi dell'essere umano, ecco, ovviamente, senza voler ridurre a stereotipi il maschile e il femminile, però non è che con la scusa di evitare gli stereotipi poi si nega l'identità, che non è solo biologica, ma è anche psicologica, culturale, una sensibilità diversa e necessaria alla Chiesa e allo sviluppo, insomma, delle relazioni umane. Ecco, io, prima di chiamare un altro stacco musicale, sempre della seconda parte del documento finale, vorrei leggere un passaggio di un numero, un numero 86, del documento finale, sentito dalla professione e vocazione, innanzitutto perché ha avuto, probabilmente, una votazione plebiscitaria, cioè a differenza, come abbiamo detto all'inizio, di una votazione complessivamente molto superiore ai due terzi dei 268 padri sinodali da parte del documento complessivo, però ecco, in questo caso abbiamo avuto solo sette non placi, cioè sette voti contrari, 232 favorevoli. E riguarda proprio il tema della vocazione, come abbiamo accennato, che deve essere anche oggetto di questo accompagnamento dei giovani, perché la santificazione anche del lavoro, dei doveri ordinari, rappresenta per i giovani uno strumento indispensabile per la realizzazione di sé e per rispondere anche a una vocazione cristiana. Il numero 86 appunto parla della necessità di vedere anche l'orientamento professionale dei giovani in un orizzonte vocazionale. E questo che cosa significa concretamente? Significa, prima di tutto, una scelta di percorsi formativi che mirino a fruttificare i talenti personali al servizio non solo del guadagno personale, ma soprattutto del bene comune e al servizio dell'edificazione del regno di Dio. E dallo stesso lato del discorso questo significa concretamente rifiutare tutte quelle proposte di lavoro allettanti, ma che non sono in linea con i valori cristiani. E i padrisi notali appunto scrivono il lavoro, numero 86 del documento finale, è per molte occasioni per riconoscere e valorizzare i doni ricevuti. In tal modo i uomini e le donne partecipano attivamente al mistero trinitario della creazione, redenzione e santificazione. Appunto l'inserimento nella società che risponde all'accompagnamento di cui abbiamo parlato, vogliamo chiamarla direzione spirituale, e basta tenere presente le possibili derive da evitare assolutamente. Dicevo, l'inserimento nella società tramite questo accompagnamento che ci auguriamo possa essere veramente applicato nell'ambito della pastorale, nell'ambito della formazione offerta dalla Chiesa, non può limitarsi solo al percorso di crescita spirituale o alle pratiche della vita cristiana. Ecco, adesso ho letto dal numero 94 il documento finale. Ma è altrettanto fruttuoso, dicono i padri sonodali, l'accompagnamento lungo il percorso di progressiva assunzione di responsabilità all'interno della società, ad esempio in ambito professionale o di impegno socio-politico. Anche questa è una sottolineatura assolutamente da riprendere. Non è questione di distinguere come se fossimo scissi, la preghiera, la crescita spirituale da una parte e dall'altra la professione, l'impegno socio-politico dall'altra. I padri sonodali in questo numero 94 ci chiedono di perseguire una unità di vita, quindi una vocazione anche nella scelta nel perseguimento della propria professione o perché no dell'impegno socio-politico. In tal senso l'assemblea sinodale raccomanda proprio al numero 96 la valorizzazione della dottrina sociale della Chiesa. Da questo punto di vista non possiamo che essere molto contenti di questo ulteriore richiamo alla dottrina sociale della Chiesa e per parlare poi della parte finale, la terza parte di questo documento finale del sinodo ci ascoltiamo un altro breve passaggio musicale per poi ritornare in diretta qui su Radio Mater. di questo Grazie a tutti. 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 a tutti.